buongiorno oggi 24 aprile mercurio avrà effetti negativi sul rapporto professionale dei nati nel segno del toro e dell'acquario ma ciò non inciderà sulla qualità del lavoro quindi procedete tranquillamente saturno suggerisce ai nati del segno del leone e dello scorpione di ristare in sordina e attendere tempi migliori faciliterà di molto la vita ai nati della bilancia e dell'ariete la luna inonderà le famiglie dei nati nel segno dei pesci e dei gemelli di discussioni dovete portare pazienza e pensare che tutto si può risolvere con uno scambio di opinioni pacato piuttosto che con le urla marte getterà benzina sul fuoco di passione che avvolge i nati del segno della vergine e del cancro vi aspettano momenti interessanti giove porterà ai nati del segno del sagittario tanta fortuna e intraprendenza in ogni ambito della vita il sole profuma la vita dei nati del segno del capricorno regalando salute e vitalità e ricorda ogni indolore insegna una lezione e ogni lezione ti cambia grazie per l'ascolto e risentirci a domani